Continuano gli appuntamenti con il settembre culturale. Sabato scorso al Castello di Agropoli presente Giampiero Mughini per presentare il suo ultimo libro. Vediamo. Per noi ovviamente come amministrazione comunale di Agropoli è un onore avere questi ospiti così importanti e la maggiore soddisfazione deriva dal fatto che la piazza d'armi del Castello è sempre gremita, piena di persone che ogni sera arrivano qui al Castello per vedere tutti questi grandi artisti. Io non ero mai stato ad Agropoli, è un luogo di una bellezza, di una tale bellezza che non c'è bisogno neppure di sottolinearla, un angolo d'Italia, ma l'Italia è piena di questi angoli meravigliosi e quindi come ho trovato già il fatto che in una cittadina turistica eccetera ci sia una rassegna in cui c'è uno spicchio di cultura eccetera così via è un tale miracolo che bisogna ringraziare il Signore.